buongiorgio a tutti ragazzi sono chilo oggi siamo su codonline abbiamo trovato il multiplayer che l'ho trovato per caso pensando fosse una missione della campagna ho fatto una partita di prova ho fatto 8-0 penso non lo so che erano se erano botto ritardati ricompense ho capito come si chiamano e ho satcom missile che non sono riuscito a usare perchè sono una pippa e l'elicottero che non ha fatto un cazzo andiamo avanti sono già indietro non so come e cerchiamo i nemici guardate questa è la seconda partita che faccio su questo gioco in multiplayer scarlet è il mio compagno più forte prima ha fatto il levasto ecco qua il primo sono morto assist sono morto io voglio sapere come si salta la morte cosa è pure suicidato col suo coso penso ragazzi è un bellissimo 0 2 stiamo facendo la mappa di prima era molto più facile penso che fossero i botte nella partita di preparazione ed eccone qua uno e facciamolo fuori anche con la pistoletta vedo che qua a cambiare arma ci mette tanto manca per ricaricare perchè a volte non prende i comandi perchè lagga ragazzi il gioco made in china ce lo possiamo aspettare solo che qua ogni volta che cambia spawn è un problema ok qua sta succedendo di tutto fatto fuori e ho il satcom 2v non so come chiamarlo chiamiamolo col 4 ok ok ce la stiamo facendo muoiono senza motivo l'elicottero sta facendo il delirio se lo chiamo ho vinto ho il missile ragazzi provo a chiamarlo provo a chiamarlo anche se sarà difficile ecco non ci sono nessuno ovviamente coffine delle munizioni abbiamo vinto abbiamo vinto ragazzi eeeh eeeh ho fatto un bellissimo 5 2 penso non so quali sono gli assist o quali sono le morti mi ho fatto vedere com'è comunque adesso sembra che ho fatto una cazzata ma col mouse è veramente difficile muovere vao ti prego infatti è già cominciata la partita 0 a 0 stanno ragazzi di ok ragazzi una ok mi sembra che sono botto giocatori veri perché mi sembrano scarsi essere giocatori veri o i cinesi sono scarsi a prescindere non come i giapponesi e infatti sono morto ma mi ha salvato un compagno non trovo nemici veramente difficile ragazzi col mouse almeno per me che gioco sempre su play poi non uccido uno ok ecco ne ho uno e sono morto 4-2 penso e tendo premuto e vediamo dritti per dritti lagga che se lagga il single player il multi player sembra sta peggiorando sta peggiorando ve l'hanno chiamato il non riesco a ucciderne più uno ragazzi perché se li trovo ci stanno i miei compagni che lo uccidono quindi questo è il problema questa massa piccola però questo di sicuro almeno uno lo uccide forse anche due e infatti ho ucciso anche quest'altro per fortuna qua non è finita durano veramente pochissime le partite ragazzi ultimo in classifica ma solo sei che non fate vabbè Scarlett ragazzi è una è una macchina da guerra penso sia un botto questi però vabbè ragazzi e quei due partiti erano benissimo che mi hanno fatto vedere un po' come multiplayer adesso non sono riuscito a capire manco nuove magari altre partite faremo insieme e questa deathmatch e queste mappe due mappe non ho visto non vedete come si chiamano mi dispiace non so come dirlo quindi vabbè ci vediamo al prossimo video arrivederci ciao